Sindaco una bella notizia per tutto l'Abruzzo, per il movimento turistico ma anche per la zona montana la riapertura delle grotte del Cavallone che sono finalmente di nuovo fruibili al grande pubblico è stato un risultato eccezionale anche perché siamo riusciti a fare in 15 giorni quello che negli altri anni ci volevano almeno tre mesi per concludere, uno sforzo enorme e una bellissima storia anche di imprenditoria femminile perché è la società che gestisce l'accompagnamento in grotta e attrazione quasi interamente femminile sono state due amministrazioni unite, un grande legame, un grande rapporto col Parco della Maiella e anche un bel rapporto di collaborazione istituzionale al di là di tutti gli schieramenti politici con la regione Abruzzo è stato veramente un bel giorno, è stata una forte emozione per tutta la vallata, tutta la comunità ma lo dico sempre, non è un punto d'arrivo, è solo un punto d'inizio perché ora dobbiamo far crescere questo sistema turistico ancora di più e dobbiamo regalare un sistema che si regga da solo e che faccia da motore a tutta la vallata Per l'intero comprensorio la riapertura delle grotte del Cavallone rappresenta tanto anche in ottica futura? Assolutamente sì, è fondamentale avere un'attrazione di questo tipo ed è anche ancora più fondamentale ora che sono emerse altri tipi di attrazioni negli ultimi anni penso al castello di Rocca Scalegna ad esempio oppure la capacità attrattiva del Geoparco Unesco della Maiella Grazie Grazie